Bene Bruno, visto che tu sei stato fino a ieri uno degli estimatori, uno che ci ha dato il suo tempo, perché ricordiamo che chi è appassionato non lo fa per un discorso economico, ma lo fa per passione, vedere 250 supercar, il Museo Mille Miglia, di questo valore, 3 Pagani, le Ferrari XX, cioè praticamente c'era una Mille Miglia moderna all'interno di una Mille Miglia storica. Esattamente, sono per carità, io vista l'età preferisco le macchine old, comunque ti dico che è un bel vedere, sì però è una Formula 1 degli anni 70, non è una Formula 1 reggente, è più degli anni 70, dove la varenza è pilota, vale più della macchina. Adesso tra l'altro andrò il prossimo giugno, spero di fare... Monte Carlo? No, Monte Carlo non c'è quest'anno, c'è l'anno prossimo, è sempre biennale, il Monte Carlo storico è biennale. No, ci sarà, hanno ripristinato quest'anno la Coppa Inter-Europa a Monza che sarà il 2021 e vorrei partecipare con tutte e due, con la Junior e con la Uno, vediamo insomma se riusciamo a mettere assieme le due cose. E la tua vettura Formula 1 di un ex pilota di Ferrari? Come sta andando? Ah, no va bene, oddio va bene. L'hai portato in Inghilterra? Sì, 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 ho mandato il motore in Inghilterra, lo stanno rifacendo perché non era affatto puntino. Un ragazzo che salvò l'auda tra parenti. Sì, 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 sì. Anzi, dovrei poi, quando è tutto a posto, lo sentirò che magari gliele facciamo tenere il battesimo, lo facciamo fare a lui. Insomma, ecco, no, il motore purtroppo non era un granché per cui aveva bisogno di una cura fatta dal maestro Richardson e dovrebbero mandarlo, credo, per la metà del mese prossimo dovrei averlo, insomma. Un ragazzo che spossolizzava a Malboro, avete già capito chi è, io non vi dico il nome. Invece parlo con Andrea Liberini perché al di là del tuo momento istituzionale come concessionario, vogliamo riavvolgere il filmato di un mese fa del Rally Mille Miglia, così do il tempo alla regia di mandare le tue immagini. Un Mille Miglia, il settimo assoluto, un Mille Miglia che ti ha visto tra i protagonisti, tra i bresciani, perché tanti erano i partenti, perché più di 120 equipaggi al via, quindi ringraziamento doveroso all'ACI di Brescia per riuscire in un momento di crisi portare proprio sulle nostre strade tanti equipaggi. Ci vuoi raccontare il tuo Mille Miglia? Tra l'altro poi tu sarai presente, questo mi aggancio perché dalla settimana prossima ci sarà Luana Vollero, come ho detto prima, al Museo Mille Miglia, ma ci sarà il nostro amico Bruno Sandrini che organizzerà molte estate all'autonomo di Franciacorta, tantissime moto dove sarai presente non solo come pilota, ma come anche tu vuoi allargare i tuoi orizzonti con Calibra, una nuova agenzia di comunicazione che dà la possibilità a chi volesse intraprendere sia sulle due ruote che sulle quattro ruote, dare un pacchetto già predefinito per poter fare solo il suo lavoro, cioè correre. Cioè correre, sì. No, diciamo che il mio Mille Miglia è stato un po' l'esempio, è stato un po' quello che ci ha fatto ancora credere in più in questo progetto e come ho detto prima per me è stato un Mille Miglia difficile perché venivo da veramente un anno dal Mille Miglia del 2014. Corri con la Mitsubishi, quindi. Quindi non potevo far molto. Non potevi fare molto. No, diciamo che appunto era un anno, non avevo mai provato la macchina, il percorso era per me comunque nuovo perché a parte la Perti che sulle altre prove non c'avevo corso, quindi comunque veramente era una situazione molto difficile. Con la squadra di Calibra, con Andrea Dallavilla, che è un po' il nostro guru, lo chiamiamo, che ci aiuta poi a seguire, a capire bene la vettura, il metodo di lavoro. Abbiamo dimostrato che con un certo metodo di lavoro, con una certa gestione, i soldati si possono fare anche contro ogni pronostico. Comunque ricordiamo che chi è arrivato dietro è veramente tanto di cappello a Eubling che è arrivato secondo, ma a pochissimi ce la siamo giocate sugli ultimi chilometri della Moerna. Insomma, gente scoda ufficiale. Devo dire onestamente che quando mi hai detto che partite con questa vettura non ero molto favorevole nei tuoi confronti perché è una vettura impegnativa, una vettura che ha visto essere guidata da piloti, che tu sei un general tramadriver, hai tutte le qualità. Devo dire che hai avuto un momento di appannamento, tra virgolette, calo fisico, magari calo di zuccheri, però hai reagito molto bene nell'ultimo passaggio. Sì, c'è stato un problema che tra l'altro è stato anche molto bello, che è il bello del rally. Abbiamo dopo 500 metri, meno di un chilometro dalla Pertiker, ci è rimasto senza interfono. C'è stato un problema all'audio dell'interfono, quindi non avevamo note e il mio navigatore Alessandro Guerra faceva i gesti. C'è una bellissima foto dove si vede proprio lui che segna il 4. A proposito di foto bellissima l'immagine di tuo papà che ti riprende con la telecamera. Eh, il papà non manca mai, lui è veramente guai. Abbiamo fatto contento anche la famiglia, ok caramba, va bene anche lui. No, diciamo che appunto, veramente sono tante piccole cose che messe insieme fanno il successo. Mentre Andrea parla, prego la regia di presentare quello che sarà il nostro partner per tutta la stagione, il momento del VIP. Perché con Luana abbiamo cercato di dare, di far conoscere quanta è la passione, questo poi a giro posto le domandiamo al direttore dell'ACI Brescia, il dottor Angelo Centola, quanta è la passione per il mondo dell'auto, per gli sportivi. Era giusto far vedere un piccolo frammento di quello di uno sport importante in Italia di Rovato che ci accompagnerà per tutta la stagione perché ci dà la possibilità di entrare nelle case di personaggi che solitamente non parlano. Però nel mondo dell'auto noi riusciamo a fare anche questo. Ma però naturalmente, grazie al sorriso e alla simpatia di Luana. Servizio. Valore Futuro è il prodotto che stiamo per presentare oggi. Ovviamente sempre in compagnia e grazie all'aiuto dei nostri partner che ovviamente ormai avete imparato a conoscere. Stiamo parlando di Generali Ina As Italia. Andiamo a scoprire questo prodotto insieme a Flavio Argenziano che ovviamente fa parte dell'agenzia. Generali Ina As Italia oggi dà l'opportunità di diversificare i propri investimenti attraverso la vasta gamma di prodotti che offre. Uno su tutti è Valore Futuro. Valore Futuro rappresenta la nuova filosofia, la nuova concezione di investimento e grazie anche ai risultati che sta offrendo a livello economico che possiamo constatare quotidianamente anche è diventato il prodotto di punta del gruppo. Valore Futuro è un investimento che si sviluppa sia a premio anno ricorrente, di conseguenza ogni anno viene depositata una somma fino a scadenza contrattuale oppure in un'unica soluzione, quindi a premio unico. Questa polizza ci consente di poter raggruppare in un'unica soluzione sia una gestione separata a consolidamento del capitale che in fondi di fondi in linea multicomparto gestite da banca generale. Di conseguenza entriamo nel mondo azionario per poter avere una maggior soddisfazione economica. Tutto con il capitale protetto. Questo significa che a scadenza contrattuale il cliente ha l'opportunità di ritirare il capitale che ha versato, quindi messo a sicuro, più gli interessi guadagnati degli anni. Valore Futuro ci dà l'opportunità quindi di intraprendere un investimento a zero rischi con il massimo della resa. Beh, è una cosa che può sia affrontare un'azienda come investimento che anche un privato chiaramente. Da quando è nato il prodotto nel luglio del 2013 ad oggi la raccolta è stata circa quasi di un miliardo di euro a livello Italia. Di conseguenza automaticamente possiamo ben capire che è un prodotto che funziona e comunque con la protezione del capitale dà tutte le garanzie e la serenità al cliente di poterlo affrontare senza alcun dubbio. Nel caso in cui voleste maggiori informazioni non esitate a visitare il sito internet inasitalia.generali.it oppure potete venire a recuperare le informazioni che vi servono direttamente qui in sede a Rovato in via 25 aprile numero 66. Bene, questo è un partner che ormai da due anni ci segue e ha creduto a motore a 360 gradi perché ha capito qual è la valenza sul territorio di far conoscere il prodotto indipendentemente dal discorso economico. Siamo negli ultimi minuti, sarebbero tante le domande e sono tante le domande, però ricordate che questa è la puntata numero zero quindi i personaggi che vedrete stasera sui vostri teleschemi li vedrete per tutta la stagione. Esempio, col direttore Angelo Centola, come ho detto in presentazione andremo in ACI, verremo da voi, ci farete capire qual è la valenza di ACI perché noi l'ACI nel mondo sportivo la conosciamo solo per un discorso sportivo ma l'ACI è a 360 gradi perché sono tante le iniziative che l'ACI sul territorio fa dalle delegazioni, dal pronto soccorso, dai servizi, dall'assicurazione da tante cose che sono importanti per il vostro associato. L'ACI è come la tua trasmissione a 360 gradi quindi noi ci occupiamo della tematica della mobilità in tutti i suoi aspetti abbiamo la mobilità che fa riferimento all'aspetto sportivo, all'aspetto turistico, all'aspetto ricreativo abbiamo la mobilità che fa riferimento all'aspetto normativo, quindi delle pratiche perché sappiamo benissimo perché se una macchina deve essere in strada ha tante autorizzazioni da dover prima ottenere e poi l'aspetto associativo, cioè nel senso il mondo dei servizi ACI che noi garantiamo ai nostri associati e anche agli automobilisti anche perché uno dei servizi più conosciuti di ACI è il cosiddetto soccorso stradale il carattrezzi perché la gente guarda passare qualche carattrezza con la scrittà ACI e quindi si identifica però quello è uno dei tanti servizi che noi nelle nostre tessere, nelle nostre associazioni possiamo offrire alla clientela e abbiamo delle buonissime iniziative quest'anno per i nostri soci e anche per chi vuole diventare socio che secondo me se tu mi dedichi qualche puntata io ho piacere di poterla comunicare, informare e naturalmente vado anche oltre mi piacerebbe anche avere un'interazione con gli automobilisti o con i soci se ci vogliono venire a trovare oppure ci possono anche contattare perché noi vogliamo il rapporto con i soci e con gli automobilisti tieni presente che al di là di motore a 360 gradi che va su Brescia TV va anche su Sky 879 poi c'è una pagina di Facebook curata dalla collega Luana che io onestamente non sono un tecnologico, non ci credo più di tanto ma devo dire che dà dei grossi risultati sono Facebook che è importante quindi riuscire con i social network che tra l'altro comprate Brescia App nell'edicola perché c'è una bella intervista che qualcuno ha fatto con il direttore Angelo Centola che spiega, non è come stasera così sportivo tra virgolette in maniera istituzionale perché lui è un direttore ACI quindi crede molto in ACI crede in quello che può fare l'ACI sul territorio e una mia considerazione personale se qualcuno lo lascia lavorare veramente troveremo un cambiamento di ACI Brescia dopo questo mi puoi pagare anche un caffè adesso sinceramente il caffè è l'antipasto ti devo pagare tante altre cose sono la dieta feria, sono la mia moglie, si arrabbia Bruno Ferrari, abbiamo detto mille miglia dietro l'angolo grazie per quello che tu hai fatto personalmente e per la Brescia Corse che poi vedremo la settimana prossima con Donato Benetti e Luana Vollero all'interno di Museo Mille Miglia gli occhi riflettori sono puntati su te oneri e onori adesso a questo punto qualcuno disse ah puntini puntini sono cavoli tuoi capito il messaggio direttore grazie per essere intervenuto è giusto far conoscere chi dietro le quinte fa vedere uno spettacolo che molte, sì i piloti sono i personaggi ma ragazzi dietro questo spettacolo c'è qualcuno che lavora grazie Andrea Liberini perché è un amico è simpatico, è giovane e dietro l'angolo bisogna essere giovani ricordatevi due prodotti Suzuki e Peugeot scegliete voi andate a nome dei motori a 360 gradi pagherete di più di quello che pagherete normalmente grazie di tutto questo è solo l'assaggio l'appuntamento la settimana prossima io non ci sarò per fortuna vostra ma avrete due persone simpatiche noi ci vedremo fra 15 giorni grazie e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti